Un fine settimana di primavera da trascorrere immersi nella natura, tra passeggiate, visite, tanti laboratori e appuntamenti golosi nella suggestiva cornice della Val Canali, conca verde che si apre ai piedi delle pale di San Martino. Siamo all'interno del compendio di Villa Velsberg in Val Canali. Questa è la casa del parco. Il parco naturale, Paneveggio, Pale di San Martino, è un parco di quasi 20.000 ettari. Un parco che racconta la straordinaria biodiversità del paesaggio, racconta delle grandi montagne, le dolomiti, il lagorai, racconta di una fauna straordinaria e di una flora altrettanto straordinaria. Sono straordinari i prati che circondano Villa Velsberg e proprio su questi prati, domenica 12 maggio, ci sarà l'iniziativa Primavera in Val Canali. Un'iniziativa che permetterà ai visitatori di conoscere la straordinarietà di questi luoghi, la biodiversità che si estende e naturalmente anche le tante attività compatibili con l'ambiente. Incornecciata dalle maestose, Pale di San Martino, la piccola valle, apre simbolicamente le sue porte e invita a riscoprirla in una delle sue vesti migliori, quella primaverile. Ricco il programma di attività e proposte dedicate a grandi e piccoli, con passeggiate, visite, laboratori e appuntamenti golosi, per ricordare a tutti quanto sia importante salvaguardare la biodiversità, le attività tradizionali e i saperi locali. Una giornata particolare, dicevamo, la Primavera in Val Canali, particolare anche sul piano della mobilità. In effetti la valle sarà chiusa al traffico dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 16, così da vivere più da vicino, più in modo tranquillo. La visita ai vari laboratori, alle varie attività che qui si terranno in questa straordinaria giornata. Per questa giornata si potrà arrivare nel momento di chiusura della strada, o venendo a piedi, oppure venendo in bicicletta, oppure attraverso un servizio di navetta gratuita. Per tutte le informazioni relative alle tante attività che si terranno domenica 12 maggio, potrete consultare il sito del parco o dell'azienda di promozione turistica di Primiero San Martino di Castrozza.